Paolino Vignali, una grandissima prestazione di squadra, il mister ha parlato chiaro vita o morte, siamo vivi, lo abbiamo dimostrato, bisogna continuare così Sì, è vero, voglio fare un applauso ai miei compagni di squadra perché fin dal primo al 96esimo minuto abbiamo avuto un atteggiamento giusto, positivo, non abbiamo mai mollato Anche se in alcune circostanze erano un po' in difficoltà, però siamo andati oltre, grande prova di squadra e avanti così che questo sia un atteggiamento giusto per arrivare al 6 maggio con la salvezza in tasca Un campionato finora sulle montagne russe a livello di prestazioni, influenzò la grande partita, classe definita indecorosa un po' da tutti, anche da voi Oggi di nuovo si è vista una grande squadra, bisogna assolutamente trovare continuità Sì, sicuramente domenica, domenica abbiamo una trasferta insidiosa che è contro il Pavia, il mancio a carri di dare continuità Portando questo atteggiamento che abbiamo in casa fatto col Firenzuale quest'oggi, è un atteggiamento positivo, cercare di farlo anche in trasferta Per portare a casa più punti possibili per la nostra salvezza Bravissimi anche a non concedere spazio oggi al Calvina perché non si sono registrate occasioni da parte loro Sì, sono d'accordo con te, è un atteggiamento giusto, positivo, è un atteggiamento che così possiamo dar fastidio a chiunque Però sempre un passo alla volta e ogni domenica per noi è una finale per cercare di portare a casa la salvezza il prima possibile È lampante la vostra unità e quest'oggi soprattutto voi vecchi avete trascinato i giovani che sono anche riusciti ad esaltarsi in alcune prestazioni Si riferisce anche a Pasotti magari Sì, è vero, il gruppo è sempre stato unito anche quando perdevamo nelle sconfitte, nelle difficoltà In questo andamento molto altanelante Però anche oggi in casa abbiamo sofferto, abbiamo stato identi e alla fine abbiamo portato a casa un risultato bellissimo Abbiamo sofferto 1-0 in casa contro per noi uno scontro diretto, una partita che non dovevamo sbagliare Infatti non abbiamo sbagliato e voglio fare un'altra volta un applauso alla mia squadra perché c'è ed è veramente bella questa vittoria L'archiviamo e pensiamo già a domenica prossima Sentivate molta pressione addosso prima della partita? Sì, sentivamo pressione, però in alcune volte la pressione fa tirare fuori qualcosa dentro di noi che magari difficilmente in alcune altre volte viene tirato fuori Però benvenga la pressione e firmerai per altri 10 vittorie così sinceramente Grazie Grazie a voi